L'allerta meteo era stata preannunciata in molte regioni d'Italia, con particolare incidenza in Campania, Calabria e Molise. Fenomeni di particolare intensità, avevano detto gli esperti, e in effetti la previsione si è rivelata azzeccata. Le forti raffiche di vento delle scorse ore hanno causato disagi in tutta la regione, con danni anche ingenti in diverse località, impegnando vigili del fuoco e squadre di emergenza. A Termoli il vento ha raggiunto i 120 km orari, causando forti mareggiate e burrasca. Si dichiara la fase di sorveglianza su tutta la zona, hanno annunciato gli esperti. A Larino invece i vigili del fuoco sono intervenuti a causa di alberi e tegole pericolanti, mentre a Casa Calenda un incendio di lieve entità si è sviluppato in un bosco nei pressi del centro abitato. Situazione difficile anche a Busso e Mirabello, dove si sono registrati diversi interventi di soccorso, mentre a Vinchiaturo alcuni abitanti hanno comunicato l'interruzione della corrente elettrica per alcune ore. Anche a Campobasso rami spezzati e qualche albero caduto hanno rallentato la circolazione, ma i disagi maggiori li hanno subiti i passeggeri del treno Roma-Campobasso, costretti ancora una volta ad un viaggio estenuante. La colpa questa volta è di un tronco d'albero finito sui binari tra Cantalupo e Boiano, un imprevisto che ha costretto i viaggiatori ad una sosta di 20 minuti nella stazione di Carpinone, mentre una squadra di emergenza delle ferrovie si impegnava a risolvere la situazione. Fornire un mezzo alternativo non è stato possibile, stando alle dichiarazioni di alcuni presenti, e una volta rimosso il tronco il treno è ripartito, ma purtroppo con tutti i problemi legati alle coincidenze sballate del traffico ferroviario. Il treno ha quindi effettuato una sosta di almeno 15 minuti in ogni stazione per un totale di oltre 4 ore di viaggio.